eccoci e bentornati sul mio canale ragazzi ho un video che vi farà cadere dalla sedia come sono caduto io mi arriva direttamente dai miei amici di call of duty italia che mi hanno comunicato una cosa importantissima praticamente sembrerebbe che si possa giocare a call of duty modern world remastered senza l'uso del disco ovviamente di infinite warfare la conferma è arrivata pochi minuti fa e ora sembrerebbe possibile giocare senza avere il disco di infinite warfare inserito dentro alla playstation 4 l'importante è aver installato l'ultimo aggiornamento del titolo dell'infinity world sulla ps4 questo potrebbe essere finalmente l'indizio definitivo dell'arrivo di call of duty modern world remastered in versione stand alone fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale